Nel Consiglio metropolitano che si è tenuto per l'approvazione del bilancio, io ho avuto l'opportunità di condividere con tutti i colleghi della città metropolitana un emendamento che ritengo molto importante, perché con questa modifica noi abbiamo per la prima volta finanziato direttamente la ricerca per l'Università degli Studi di Bari. Una piccola cifra, ma che sarà soltanto l'inizio, io mi auguro, di una collaborazione futura fra enti locali e Università degli Studi di Bari che consentirà a dei ragazzi e a degli studenti in difficoltà economica di percepire delle borse di studio magari finalizzate a dei dottorati di ricerca. Sono davvero felice di questo risultato che dà speranza all'ente locale e a città metropolitana e che dà fiducia anche all'Università degli Studi di Bari. Le istituzioni devono comunicare, devono collaborare fra di loro perché non dobbiamo mai dimenticarci che il bene ultimo di tutti quanti di destra, di sinistra, di centro, quale che sia lo schieramento politico è quello della nostra comunità. Con l'emendamento di ieri abbiamo fatto un ottimo passo avanti per la nostra comunità studentesca.